Sulle linee di indirizzo del programma Ritornare a Casa contenute nella delibera della Giunta regionale 24-22 del 22 aprile interviene il distretto Plus di Nuoro che richiama la Regione su alcuni passaggi considerati insoddisfacenti. L'Assemblea dei Sindaci ha elaborato delle proposte di modifica che sono state illustrate stamattina all'assessore alla sanità Luigi Arro. I sindaci del distretto Plus che vede il Comune di Nuoro come capofila riconoscono l'importanza del programma regionale e dei benefici che ad oggi ha portato alle persone interessate. Ma non tutto va. Tra le modifiche proposte dalla conferenza presiduta dall'assessore ai servizi sociali del Comune di Nuoro Valeria Romagna si legge in una nota l'abolizione del carattere di retroattività. L'Assemblea infatti chiede che l'accesso al programma si possa effettuare in ogni periodo dell'anno e non solo nei periodi designati dalla Regione, consentendo in questo modo alle persone che hanno bisogno di un intervento una maggiore facilità di accesso. Si chiede anche l'individuazione dei medesimi scaglioni dell'indicatore della situazione economica per tutte e tre le linee di intervento e la rivisitazione dei requisiti d'accesso alle stesse. Altra richiesta riguarda l'inserimento tra i criteri di assegnazione di un valore legato alla valutazione socioambientale che tenga conto dell'analisi delle reti relazionali del paziente. Inoltre si propone l'istituzione di una misura dedicata in grado di dare risposte tempestive ai pazienti affetti da patologie neoplastiche in fase terminale della vita. Il plus di Nuoro nel corso dell'incontro ha chiesto all'assessore Arru un significativo cambio di rota per quanto concerne le interlocuzioni tra Regione e enti locali.